Terra, sapori e vini ancora con voi amici cari, i nostri viaggi, le nostre avventure, gli aggiornamenti. Abbiamo raggiunto nuovamente il Piemonte, il comune è quello di Asti, ma siamo in frazione Monbarone, al mio fianco una bella signora che si chiama Mara Bione. Mara, noi abbiamo raggiunto un locale particolare quest'oggi perché qui c'è una storia, c'è una cornice, un'atmosfera, insomma si chiama Osteria dei Binari, dove siamo arrivati? Siamo arrivati in una stazioncina ferroviaria che fu inaugurata nel 1912. Dai, pensa che meraviglia! È stata stazione per tantissimo tempo? Sì, stazione per tantissimo tempo, fino a sette anni fa passava ancora il treno che fischiava e ci salutava. Hai visto, invece ora il treno non passa più, però voi, tu e Claudio, se ho ben capito, che cosa vi siete inventati? Noi ci siamo inventati un luogo, un'osteria, dove vogliamo comunque comunicare la cucina tradizionale piemontese senza complicazioni, molto semplice, dove la materia prima viene esaltata. Certo, noi siamo andati tra l'altro nelle cucine a sbirciare, io con il regista Pietro Marcellino e abbiamo insomma dato un'occhiata. Qui abbiamo tre espressioni tipiche della cucina del territorio, vuoi raccontarcele? Sì, l'insalata russa fatta da noi solo con le verdure è praticamente nostro benvenuto dalla cucina, perché vogliamo comunque far sentire il cliente che appunto è benvenuto, con un piatto tradizionale. Adesso poi l'origine dell'insalata russa è controversa. A noi piace pensare che il cuoco della corte Sabauda comunque la preparò per degli ospiti molto importanti. Hai visto come tradizione piemontese vuole, poi le scuole di pensiero sui piatti, tanti piatti hanno delle scuole di pensiero differenti. Dall'insalata russa qui invece cosa c'è di buono? Qua abbiamo la nostra fassona, razza piemontese, la grande fortuna di avere un macellaio dietro casa, che ce la fornisce in maniera molto tempestiva. Ho visto il Claudio batterla rigorosamente al coltello, eh? Sì, 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 la battiamo al coltello, è un taglio molto tenero, noi utilizziamo la coscia. Razza bovina piemontese, mi raccomando, non è la razza fassone, è razza bovina piemontese, poi sul fassone si sarebbe da fare tutto un discorso, ma è una tipologia di animale, ma la razza è la bovina piemontese. Altro classico è il carpione. Sì, altro classico è il carpione, che è praticamente un piatto molto estivo, quando specialmente fa particolarmente caldo, c'è una cotoletta impanata, quindi l'uovo e le zucchine messe in carpione, noi utilizziamo l'aceto bianco. Ecco, come lo preparate il carpione? Con l'aceto bianco. Con l'aceto bianco, no? E il vino, chiaramente. E il vino, certo. Senti bella signora, facciamo una cosa, visto che siamo nella vecchia stazione, io mi sono organizzato e guarda qui, che bella donna che ho al mio fianco quest'oggi, FS che non è Ferrovie dello Stato, ma Fabrizio Salce, prendiamo il bicchiere. Si parte, il treno parte. Allora, Osteria dei Binari, Monbarone Asti. Ciao bella, auguri. Osteria dei Binari, Monbarone Asti.